Io ringrazio il metere Galace e il padre Enzo Fortunato perché hanno organizzato questa riflessione sull'economia circolare e ho ascoltato con grande interesse anche la presentazione del rapporto della Fondazione Ambiente e le relazioni precedenti, tutte di grande interesse. Mi fa anche un enorme piacere sapere che faccio parte di un paese che non sta indietro nell'ambito del riciclo anche se abitando a Roma e camminando per le strade di Roma vediamo notevoli quantità di cassonetti dove la selezione dei rifiuti non è la migliore che possiamo avere e sappiamo che il Lazio e Roma in particolare esporta rifiuti. Non riesce a riciclare questa stessa. Quindi ci abbiamo ancora da fare, ci abbiamo ancora molto da fare e ci abbiamo ancora molto da apprendere. Nell'introduzione sono detto che cosa abbiamo imparato da questo periodo di pandemia nei confronti dell'economia circolare. Ecco io credo che una cosa abbiamo imparato. Noi siamo stati tutti quanti, siamo ancora tuttora nelle nostre case molto più di quanto non stavamo prima e stando nelle nostre case ci siamo sicuramente guardati intorno meglio. Conosciamo le nostre case meglio di quanto non le conoscevamo prima che tutti i giorni uscivamo dalla mattina, rientrovamo la sera stanchi magari per mangiare qualcosa, guardare qualcosa alla televisione, andare a letto. Oggi abbiamo anche una maggiore cura del nostro territorio che ci sta intorno e conoscendo amici e persone e vedendo quello che si passa in giro vediamo che ciascuno di noi ha cominciato a prendersi cura della casa, a aggiustarla, a metterla in ordine, a renderla più funzionale, a renderla più resistente. Ecco io credo che se abbiamo imparato una cosa da questa pandemia è che dobbiamo guardare con maggiore attenzione a quello che ci sta intorno e prenderci cura con una manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre cose. Il nostro paese, l'Italia, bella com'è, lo è perché per anni e anni, migliaia di anni, le persone sul territorio lo hanno curato in continuazione, lo hanno fatto manutenzione, lo hanno reso più facile all'uso ma al tempo stesso l'hanno reso bello e l'hanno portato avanti. Quindi questa capacità di guardare le cose intorno a se stessi e cominciare a occuparsi delle cose direttamente da se stessi è la base secondo me per andare verso un'economia che sia circolare e che sia soprattutto attenta alla resilienza e alla durata. Ed è un po' quello che è stato fatto, mi fa piacere essere oggi qui presente insieme col presidente del Conai, con il direttore del Comieco, tutti raggruppamenti che sono nati dalla volontà delle imprese. Io all'epoca ero direttore generale di Conti d'industria, alla fine degli anni 90 il decreto Ronchi pose un quesito alle imprese e disse «Vi volete occupare voi del recupero degli imballaggi o volete che ci sia un istituto pubblico che si occupa e vi impone quelle che sono le procedure da fare?». Ecco, io riunì le associazioni importanti, quelle che riguardavano appunto dall'acciaio, dalla carta, dal vetro, dalla plastica e così via e discutemmo di queste situazioni. Devo dire la verità che alcuni imprenditori mi dicevano «Ma è meglio che ci sia lo Stato che lo fa, perché se lo dobbiamo fare noi finiamo per doverci mettere delle tasse sulle nostre materie prime, dobbiamo prendere degli impegni, lasciamo fare allo Stato, poi casomai protestiamo perché lo Stato ci impone delle cose assurde». e onestamente io dissi «di no» e trovai l'assenso di molti dei partecipanti a queste riunioni perché se c'era un obiettivo, se condividevamo l'obiettivo e l'obiettivo lo condividevamo, lo dovevamo realizzare da noi. Non fu semplice, discutemmo un certo numero di anni prima di arrivare a una soluzione, coinvolgemmo il sistema del commercio che era ancora più sparpagliato del nostro e utilizzavamo un sistema diciamo in qualche maniera all'epoca rivoluzionaria, cioè ci imponemmo una sorta di tassa a monte alle materie prime in maniera tale da poter poi recuperarle a valle. Altri paesi hanno scelto la via della tassa a valle, cioè sul consumatore, che significava disperdere su milioni di persone il recupero delle finanze per questa operazione, cosa che non si poteva fare in Italia ma non si può fare anche negli altri paesi. Alla fine abbiamo vinto e i risultati mi fa piacere che sono qui presenti. Io credo che questo sia un insegnamento forte che dobbiamo continuare a perseguire e lo dobbiamo perseguire sul territorio italiano. Il territorio italiano ha bisogno di una cura molto particolare. Oggi abbiamo la possibilità con il recovery plan che ci si presenta di avviare un processo di assetto del territorio rispetto ai rischi di frane, di alluvioni, di smottamenti, a rischio di terremoto. Noi abbiamo un territorio fragile, sicuramente, estremamente fragile e questo territorio può essere messo in sicurezza attraverso una operazione capillare di intervento, di manutenzione di carattere straordinario. Oggi esistono le tecnologie per farlo, esistono le possibilità e data la situazione di necessità di riavvio dell'economia, esistono anche le risorse finanziarie per farlo. Io credo che sia questo un argomento importante da portare avanti per il recovery plan, come assolime e come associazione anche di imprese, lo abbiamo presentato, lo abbiamo detto al governo, abbiamo suggerito di utilizzare una parte di queste risorse. Abbiamo visto che una parte di queste sono stati utilizzate, io credo che andrebbe esteso questo piano, anche al di là di quello che è il recovery plan, ma per un'azione da parte proprio del Paese, di messa in sicurezza del nostro territorio. In questa maniera noi potremmo evitare domani non solo moltissimi danni all'economia, ma anche la morte di molte persone, come purtroppo succede continuamente con questi fenomeni e dare così un contributo alla resilienza del nostro Paese, che è poi l'obiettivo anche di un'economia circolare. Vi ringrazio dell'attenzione e auguro a tutti quanti un buon lavoro.